Ciao a tutti, sono Omar Pedrini, vi aspetto domani, venerdì 29 luglio alle ore 18, al Legend Club di Milano, perché ritererò un premio, parleremo di musica, di chi lavora nel mondo della musica, dei problemi, ci salutiamo, ci si beve una birra insomma. Sarò alle 18 al Legend Club di Milano, Rock Targato Italia.